buongiorno a tutte e ben ritrovati oggi vi faccio vedere come io alla mattina mi prendo cura del mio viso iniziamo subito utilizzando l'olio detergente quindi ne vado a mettere una nocciolina e vado a metterlo sul viso massaggiandolo delicatamente è un olio che a me piace tanto perché lascia la pelle molto pellutata molto idratata ma soprattutto mi rispetta la mia fisiologia diciamo naturale della pelle quindi non sono prodotti aggressivi e per questo la mia pelle è sempre più felice sciacquo poi il latte detergente con una spugnetta passo poi prendo dei cotoncini dove io ho già inibito del tonico e vado a tamponare il mio viso in questo modo o a volte mi piace anche proprio mettere il tonico nelle mani e massaggiare proprio il viso e anche questa è una bella sensazione perché oltre che andare diciamo a riequilibrare quindi fare la detersione in maniera perfetta mi lascia anche la pelle un po fresca dopodiché passo a mettere la mia crema e anche qui mi metto un pochino stendo bene anche sul collo non dimenticatelo mai e vado a massaggiare questa è mia crema un pochino più corposa perché io ho detto la pelle secca ho bisogno di avere un nutrimento un pochino più intenso e un'irattazione anche un pochino più particolare massaggio molto bene arrivo fino al te con il te e quando ho speso bene la crema sento il mio viso proprio con una sensazione molto fresca molto bella ti saluto e a presto ciao